Ciao a tutti! Benvenuti nel nostro canale Mamma Vita e Figlio Gabri! Ma cosa stiamo facendo oggi? Cos'è questo gioco? Giochiamo a Tokyo World! Bellissimo! Eh sì, Figlio Gabri vuole farvi vedere come gioca, è vero? Vero! Allora, partiamo! Cosa si fa? Si so ne arriva... Cosa si fa per prima? Cosa si... Bisogna andare nella città! Ah, nella città! Bellissimo! Vediamo come va nella città! Ah, questa è la città? Sì! Sì! Questa è la città, ma è grandissima! Sì! Ma io so che si possono costruire e creare i personaggi! Sì! Quindi creiamo i nostri personaggi! Cosa sono i personaggi? Siamo pronti? Sì! Vediamo come si creano i personaggi! Yay! Eccoci! Io non sono minuscolo! Tu non sei minuscolo? No! Sei medio! Sei mezzano! Quindi... Che bei capelli, figlio Gabri! Medio! Vediamo cambiare il colore dei nostri capelli! Come si fa? Si so ne ha... Eccoli! Vediamo! Rosa? Sì! Di che colore li hai i tuoi capelli? Marroni! Marroni? Sì! E allora li facciamo marroni? Sì! Bellissimi questi capelli qui! Ora cosa fai? La barba? No, non voglio fare la barba! No, perché tu sei piccolino per la barba! E quindi? Cosa si può fare? Ecco! Ora che... Qua... La maglietta! Ora cosa stai facendo? Sto mettendo i vestiti! Ah! Quanti vestiti ci sono! Quanti vestiti colorati! Questo? Sì! Ma no, ma ci sono tanti vestiti colorati! Vediamo quanti vestiti ci sono! Vediamo! C'è la salopezze! Oppure... Ecco! Questo è bellissimo! Questo? Anche! Col gatto! Bello? Sì! Molto bello! Quale ti piace? Scegli quello che ti piace di più! Questo! Questo? Va bene! Poi cosa si fa? Sopracciglia! Le sopracciglia! Colore? Il colore... Marrone! Marrone! Buona! Ma si possono mettere degli accessori? Sì! Vediamo! Come si fa? Aspetta! Ok! Hai cambiato il colore delle sopracciglia? Sì! Eh sì! Perché erano rosa! Ora? Ora gli accessori! Io voglio gli accessori! Come si fa? Aspetta! Vediamo gli accessori! Aspetta! Che stai facendo? Tu sono! Eccora gli accessori! Guardate! 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 Quanti sono! Gli occhiali! Però tu non hai gli occhiali, quindi no! Poi cosa c'è? Delle maschere! Delle maschere! Bellissime! Poi? Questi! Sono belli! La mummia! La mummia! Mummia! Io voglio un cappellino! Un cappellino! Mi fai vedere dove sono i cappellini? Ecco i cappellini! Belli i cappellini! Scegli ne uno! A me piace questo con gli occhi! A me non mi piace! Non piace a te? Ma che fai? La mummia col cappellino? Sì! Ah! Sei bellissimo! C'è una mummia moderna! Io ho il cappello! Quello di Spider-Man! Mettiamo questo! Ma non è di Spider-Man questo! Non fa niente! Ah! Non fa niente! È blu quello di Spider-Man! Va bene! Però la metti sulla faccia della mummia! No! Quindi modifichi il viso! Togli la maschera! Ok! No! Eh no! Devi togliere la maschera! Non si fa a togliere la maschera! Aspetta che... Qua... La maschera! Guardate! Ok! Oh! Ma Filagabri ti sei nascosto dietro un albero! Vediamo! Oh! Come sei? Eccoci! Wow! Quanti capelli! Eccoci! Vediamo! Ma sono tantissimi! Ecco! Con la coda stai benissimo! Rasato! Rasato! Con qualche pelo! Pelo! Con qualche pelucchio! Ecco! E questo è senza pelucchi! E... Oppure la cresta! C'è la cresta? La cresta! La cresta! Cresta-crosta! Cresta-crosta! No! La cresta! Ah! Bellissime queste acconciature! Ah! Sempre... Sempre un bimbo rock! Va bene! Allora scegli i capelli che più... Lo somigliano i tuoi! Ecco! Questi qua! Perfetto! Cosa aggiungiamo? Che personaggio di Mamma Vita? Che personaggio di Mamma Vita? Ah! Ora facciamo il personaggio di Mamma Vita! Sì! Aspetta che sceglie una femmina! Che mio personaggio! E sì! Devi scegliere una femminuccia! Eccoci! Ecco! And ok! Posso scegliere il vestito? Sì! Come vuoi! Ecco qui! Ecco! Che vestito mettiamo? Mamma Vita! La salope! La salope! Ok! Può stare anche così! Ora cambiamo i capelli! Mi piacciono questi a forma di cono! Ok! No! Scherzo! Questi! Sì! Brava! Oppure... Mettiamo quelli che somigliano di più! Vediamo! Le trecce come me con le D! Bele le treccine però non mi stanno bene! Quindi... Questi! Ora cambiamo il colore! Il colore! Marrone! E rosa! Dei capelli! Non mi cavo i capelli rosa! Marrone scuro! Marrone scuro! Così? Ecco! No! Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere gli occhiali però! Vero! E quindi andiamo dagli occhiali e... Eccoci! Oh! Che occhi cattivi! Arrabbiati! Cambiamo gli occhi! Si possono cambiare? Sì! Vediamo! Ecco! Il naso... Ora mi piacciono di più! Ecco il naso azzurro e bellissimo! Cambiamo il colore del naso! Il naso... Volevo la faccia amorosa! Volevo quella la faccia! La bocca ha una sorridente! Bella! E questa? Volevo bella! Bella anche questa! E... E... Ecco! Questa sì sì! Bella! Bella! Il nasetto... Il nasino non nasetto! Nasotto! Nasino rosa! Da sotto! Eccoci! Ecco il fiocchettino! Bellissimo! Ma è bellissimo questo gioco! Ma a voi amici piace? Tocca World! Secondo me hanno mai giocato a Tocca World? No! No? No? Secondo me sì! Secondo me c'è qualcuno che ci gioca a Tocca World! È vero! Abbiamo finito il personaggio! Abbiamo finito il personaggio! Ora cosa si fa? Scopriamo il mondo? Sì! Va bene! Scopriamo il mondo! Ma è grande il mondo? Sì! È grandissimo! Sì? Sì! Vediamo il mondo com'è grande! Ma abbiamo una casa? Che dici? Cambiamola! Dove siamo qui? Ma non ci sono io! Ma ci sei tu? La casa che è... Sei scomparso! Figlio Gabri! Dove sei? Non ci sei più! Dove sei andato? Boh! Sei scomparso! Sì! Cosa posso fare qui? Vediamo! Posso prendere qualcosa da bere! Posso prendere qualcosa da bere? O da mangiare? Questa è da mangiare! Questo cos'è? Un gelato? No! È Tony Popcorn! Io vorrei un caffè! Posso avere un caffè? Sì! Se questo lo butti? Sì! Stai facendo il caffè! Grazie! Per terra! Ora bevo il caffè! Per terra! Come beve il caffè mamma vita? Buttiamo! Wow! ma non ci sono io mai ma tu dove sei finito? vediamo sei andato a farla a spesa forse lui non sei piccolo sei andato a farla a spesa figlio Gabri sei sparito? sei a scuola ecco perché non ci sei come non è a scuola? vediamo se c'è la nostra casetta da costruire però intanto c'è già la casetta c'è la nostra casetta però voglio un'altra vuoi costruire un'altra? va bene ecco ora possiamo costruire la nostra casa vediamo come si costruisce costruisci costruiamo guarda come si è splendido ma è così veloce bellissimo quindi possiamo andare nella nostra casa e arredarla ma aspetta la spiaggia questo è il mondo? sì la spiaggia siamo vicino al mare? sì bellissimo ora entriamo nella nostra casa e iniziamo a costruirla amici se volete vedere i nostri video iscrivetevi al canale e mettete lasciate tanti like ecco ora iniziamo a arredare la nostra casa è vero e poi nel prossimo video continuiamo insieme va bene? sì che dici? sì allora facciamo così creiamo prima la cameretta così almeno possiamo dormire quindi ci mettiamo il letto quanti letti vuoi mettere? due ah vuoi fare un letto singolo e uno a castello? sì per gli ospiti? sì va bene per i nostri amici poi? ora ci mettiamo l'armadio ecco possiamo mettere qui ecco e poi anche questo questo con le grucce ecco ecco così abbiamo più spazio per appendere i nostri vestiti poi due mensole due mensole e e non va? eccoci eccoci uno così possiamo metterci su i nostri libri uno uno e due due tre gli hai preso tre? sì va bene lo stesso bravo lasciala lì perfetto ora andiamo nel bagno no ah c'è già qualcosina nel bagno vedi? però noi dobbiamo buttare lo eliminiamo ecco allora possiamo fare questo 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 stai facendo? stai buttando tutto? eh sì vuoi mafini nuovi? no questi no questi no questi sono nuovi ehi quindi andiamo nell'altra casa ecco andiamo nel bagno e facciamo prima la doccia che bella essere qua eccoci ora il water poi il cuci per fare la pipì dove lo metti? al centro? eh lascialo lì bravo la doccia qui però altrimenti non entra più niente poi il lavandino per lavarci la faccia c'è e uno specchio e bisogna avere anche un mobile eh anche un mobile dove lo mettiamo? non entra sì magari se abbiamo un altro bagno no aspetta qui ancora mensole? ah metti una mensola per il bagno? sì va bene eeeh siamo a quello piccolo eccoci la cartellina prova ecco eccoci perfetto no aspettate eh non ci va non ci va devi spostare forse un po' ok lo specchio devi fare così forse guarda allora forse devi fare così la mensola la abbassi un po' e poi ci metti lo specchio lo specchio così ecco ok eccoci bello? sì ora facciamo solo la cucina anzi facciamo la il soggiorno o forse facciamo questo un bel divanetto bellissimo anche quello ok quanti divani in questa casa? sì questo è già uscito poi oggi è uscito è nuovo? sì poi ci mettiamo una bella piantina piantina ecco qua lo mettiamo qua ecco lo mettiamo qua lì sì e poi una bella lampada no è una lampada appesa sì è una lampada sta diventando notte eh sì sta diventando buio dobbiamo spegnere le luci e andare a letto ora ci mettiamo una bella lampada qui 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 aspettate tante lampade no una questa puoi appoggiarla qui guarda no lì 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 vicino non per terra non va bene per terra la lampada sulla mensola mettila sulla mensola è lì va bene ora metti una lampada qui qui nel soggiorno eccoci ecco una una lampada da maschi abbiamo creato le nostre prime stanze è vero? sì bene amici ora spegniamo la luce perché qui sta diventando buio e si va a letto è vero figlio Gabri? sì quindi iscrivetevi al nostro canale perché così la prossima volta possiamo continuare il nostro video mamma vita e figlio Gabri vi mandano un saluto ciao ciao